Ma anche qui siamo in attesa di possibili novità in controtendenza. Per parlarne ospite di Trend e di Telecolore, Guido Arzano, presidente della Camera di Commercio di Salerno, il massimo ente economico del territorio. Presidente, un quadro economico preoccupante, cui si aggiungono anche le preoccupazioni degli imprenditori. Noi però siamo ottimisti perché crediamo nella ripartenza del sistema economico salernitano, che va strutturato su due o tre assi portanti. L'una è la possibilità di rilanciare l'agroindustria, quindi tutto ciò che è agroalimentare. Noi produciamo il 2% mondiale dell'ortofrutta, quindi abbiamo una potenzialità enorme da questo punto di vista. La seconda è sicuramente il turismo, perché proprio integrati i due sistemi, agroindustria e turismo, possono dare, all'interno di un ragionamento però ovviamente condiviso, passando da un distretto turistico a una società di trasformazione urbana, dare quella spinta per il valore aggiunto. Io vorrei ricordare che quando si muove il turismo un euro di PIL turistico, diretto e indiretto, e per diretto e indiretto io intendo sia la decettività che la ristorazione e quant'altro, producono in media 80 centesimi di PIL indotto. Quindi se noi teniamo a mente che un punto di PIL nostro è pari a 200 milioni di Euro, se si attuano politiche valide, noi possiamo farcela da questo punto di vista. Un punto di PIL significa occupazione, significa tantissimo. Ovviamente il terzo pilastro è sicuramente la internazionalizzazione, perché? Perché in un momento in cui la domanda interna stenta a riprendersi, è del tutto evidente che per mantenere i livelli occupazionali da una parte, i livelli produttivi dall'altra, bisogna trovare nuovi mercati.